Una domanda? Quando volete? Vabbè io vado... Questa non è soltanto la sera del ricordo, non è soltanto la sera del ricordo degli 11 anni che ci separano dal terremoto del 2009 e non è soltanto la sera del ricordo delle vittime della città dell'Avila perché stasera insieme a loro ricordiamo anche tutti coloro che in queste ore, in questi giorni, in queste settimane stanno morendo da soli senza il conforto dei propri cari ma l'Avila è un esempio, l'Avila è un esempio di carattere, di forza, di resistenza, di capacità di reagire l'Avila è il segno della rinascita e lo stesso carattere devono averlo questa sera e per i giorni a venire gli italiani perché uscire fuori dalle emergenze si può perché è necessario tenere sempre aperto l'omblo della speranza anche in mezzo a Mari Puglaska